La piccola sta bene, l'abbiamo rivista anche stamattina per un controllo clinico ed è in buone condizioni, per cui al momento, anche se ovviamente non possiamo dire che l'episodio sia terminato, le sue condizioni sono rassicuranti. Così il professore Maurizio Arricò, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara sulle condizioni della bimba affetta da epatite in cura nel suo reparto, che al momento è l'unico caso in Abruzzo. Ci sono legami con il Covid-19? In realtà la bambina non ha una evidenza di avere contratto il Covid, ma ha una familiarità perché la mamma ha contratto il Covid. Noi abbiamo dosato i suoi anticorpi che sono molto bassi, quindi lei potrebbe essere passata indenne. C'è invece una ipotesi, che forse è più accreditata in questo momento sui dati preliminari, di correlazione con un altro virus, che è un virus assolutamente comune nella nostra popolazione, che si chiama adenovirus, che solitamente non causa epatite, solitamente causa dei sintomi respiratori. Invece l'impressione è che sui bambini segnalati in zone diverse, circa una metà di questi casi abbia una positività per adenovirus. È interessante perché anche nel caso che stiamo seguendo noi c'è una positività per adenovirus. Non siamo in grado di dire se questo è legato a una piccola variante di questo virus, oppure a una serie di coincidenze per cui un virus tradizionalmente non causa di epatite, in questo momento in qualche bambino può causare epatite. Nonostante le raccomandazioni degli esperti, la campagna di vaccinazione anti-Covid in età pediatrica non è decollata. Perché è così importante nei bambini e cosa vuole dire ai genitori? Noi ci ricordiamo delle vaccinazioni nei momenti in cui una malattia è molto aggressiva, ma ce ne dimentichiamo facilmente quando l'effetto della vaccinazione fa declinare la sua gravità nella popolazione. Vaccinare i bambini è una procedura che oggi sappiamo essere sicura. Non abbiamo riscontri di effetti collaterali significativi nei bambini vaccinati. Certamente la vaccinazione previene anche questi ricoveri ospedalieri che tanto o poco non possono essere favorevoli per le famiglie, per i bambini, per i loro genitori che vengono impegnati, spaventati, coinvolti. Quindi io credo che tutto sommato sia giusto continuare a dire che la vaccinazione è indicata, è sicura, ha un valore individuale e ha un valore di salute pubblica.